bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video speciale molto molto speciale io sono xuder e ragazzi ne avevamo parlato molti giorni fa avevamo fatto due o tre video a riguardo perché erano traperate delle voci nei retroscena di nintendo che lasciavano assolutamente presagire che fortnite sarebbe stato portato anche sulla nintendo switch c'è stato veramente un dibattito grandissimo ragazzi sappiamo bene come nintendo abbia ancora comunque un certo peso nelle decisioni riguardo la videoludica mondiale in quanto appunto è stata una delle prime case produttrici di videogiochi al mondo beh ragazzi i dubbi per tutti voi ora sono finalmente sciolti dalle tre di los angeles ci arriva una notizia fresca 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 freschissima come l'insalata fresca ragazzi nintendo switch avrà come gioco nel suo parco videoludico fortnite e non sono solo io che ve lo dico ragazzi no 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 ragazzi guardate qua sbadan hanno rilasciato addirittura un trailer ragazzi io direi che ce lo andiamo a guardare insieme oh qua la metto guardalo qua dai che bisogna andare dai che bisogna andare dai che bisogna andare guardalo guardalo incredibile gioca insieme perché la switch si può mettere sulla televisione grande gioca ovunque ovviamente guarda 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 giuco il carrello giuco il carrello l'han tolto il carrello fanno il trailer col carrello gioca la tua strategia c'è anche il controller la switch a quanto pare guarda ecco questa è una skin che mi è mancata dovevo prenderla gioca gratis ovviamente sarà gratis era ovvio che fosse così insomma ragazzi fortnite su nintendo switch è finalmente realtà ragazzi è finalmente realtà io spero che questo video sia veramente motivo di felicità per un sacco di voi vi ringrazio per averlo guardato e vi ricordo che adesso siamo in live noi ci vediamo sempre qui ciao 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 ciao